Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 21 gennaio 2015, in diretta alle 7 e mezzo, come sempre ben ritrovati cari telespettatori, abbiamo tutti i giornali questa mattina pronti sul nostro touchscreen per essere sfogliati, lo faremo tra un istante dopo il santo del giorno e le previsioni del tempo, oggi è Sant'Agnese, che cosa si sa di questa santa? Intanto che è morta giovanissima, più o meno 12-13 anni, una ragazzina romana dalla fede incrollabile, nonostante la giovane età, fu condotta davanti a un giudice, rifiuta di sacrificare agli dei, così come disdegna ogni offerta di matrimonio, insomma finisce martire, questa è Sant'Agnese, il sole è sorto alle 7 e 35, tramonterà alle 17 e 03, il tempo per oggi, vedete c'è molta nuvolosità con addirittura pioggia e neve intorno ai 6-700 metri, soprattutto sui Sibillini, le temperature sono in aumento, per fortuna questa mattina già presto, insomma la temperatura è un po' più alta rispetto ai giorni scorsi, quindi non ci sono le gelate, ma comunque è bene sempre fare attenzione. Domani, venerdì, ancora cielo nuvoloso, senza precipitazioni, con limite delle nevicate attorno ai 5-600 metri, temperatura ancora in aumento nei valori minimi. Per la giornata di sabato, 23 di gennaio, ancora tempo variabile, con temperature in diminuzione invece nei valori minimi, i venti sono deboli e che cosa ci aspetta per il fine settimana? Anche i primi giorni della prossima settimana sarà un tempo stabile con temperature in graduale aumento. Il titolo di oggi, la rabbia e l'orgoglio, la rabbia e l'orgoglio del sindaco di Fano Massimo Seri che ieri è intervenuto sulla questione della sanità dopo che l'ha fatto il suo collega di Pesero Matteo Ricci. Attenti ai Mansueti, scrive il resto del carlino, il Mansueto sarebbe il sindaco Seri, che però quando si arrabbia e dice, Seri, Ricci straparla, soprattutto dei privati. Noi siamo invece per l'ospedale pubblico, altro che accordi. La nostra posizione sul sito ribadisce Seri per l'ospedale unico, non cambia e insiste e dice ancora si faccia a Chiaruccia, in località Chiaruccia. Poi sulla mobilità passiva, cioè quelli che prendono e vanno a curarsi altrove, fuori regione, in particolare in Romagna, si combatte, dice Seri, cioè si evita che questi vadano in Romagna soltanto se qui da noi ci sono adeguate strutture pubbliche. Gli dà manforte anche il suo assessore Samuele Mascarin, fino a prova contraria dice l'assessore Mascarin, il futuro di Fano lo decidono i fanesi e non il sindaco di Pesero. Ogni soluzione comunque va condivisa. È sempre Seri, dice, ma quali incontri ha fatto il mio collega di Pesero? Io sono rimasto alla necessità di decisioni condivise, basta con le offese dei 5 Stelle che l'altro giorno avevano detto, poi subito dopo la conferenza di Ricci, dalle parole di Ricci, insomma se ne sono usciti dicendo ma qui è tutta una farsa, il Consiglio è stata una farsa, era già stato tutto deciso. Poi sempre su questo argomento, poi così lo chiudiamo, andiamo sul Corriere Adriatico. Anche qui il titolo è un virgolettato, quindi sono parole pronunciate dal sindaco ieri in conferenza. Dico chiaruccia, la clinica invece privata si faccia pure a muraglia. Il sindaco lancia la terza ipotesi per l'assetto ospedaliero e smentisce il collega di Pesero Ricci sugli incontri avuti con il presidente della regione, Luca Ceriscioli. Tant'è che, dice ancora Seri, si è ragionato solo del sito del nosocomio unico, non di privato convenzionato e poi minaccia delle querele ai 5 stelle. E Ceriscioli ieri è uscito con una dichiarazione dicendo pari dignità per Fano e Pesero e sostanzialmente dice, in particolare al sindaco Ricci, manda a dire, insomma nessuna fuga in avanti, quello che dicono i sindaci hanno lo stesso peso, non è che quello di Pesero conta di più e quello di Fano conta di meno. Per il presidente della regione, con questa uscita di ieri, ha detto tutti e due i sindaci hanno pari dignità, quindi però stiamo sempre a girare intorno ma passi in avanti non ne vedo, almeno pubblicamente. Poi quello che si fa nelle segrete stanze della politica lo sa solo il buon Dio. Allora andiamo adesso invece sulla pagina di Fano, eccola qua, il privato lo prenda Pesero. Seri restituisce il cerino a Ricci, immediata la replica del sindaco dopo lo strappo del collega. Nuovo ospedale, Fano ribadisce Chiaruccia come sito ideale. Il governatore Ceriscioli si ritaglia un ruolo salomonico, proposte legittime e compari dignità. Poi, ancora sulla pagina di Fano, restiamo qua sulla pagina di Fano del messaggero, una ragazza che è caduta giù dal secondo piano San Costanzo, per fortuna è fuori pericolo, questa donna che nella tarda mattinata di lunedì ha tentato di farla finita gettandosi dal secondo piano della sua abitazione. Poi si è parlato ieri di scogliere, ve ne parleremo stasera in maniera approfondita sul telegiornale, via libera d'appalto per 7 milioni, sono le scogliere fra Sassonia Sud e Baia Metauro, quindi anche su questo argomento torneremo, l'intervento riguarderà il litorale compreso tra Sassonia Sud e Baia Metauro. Poi gli uffici del Circomare trasferiti per tre mesi. Gli uffici fanesi, attenzione, della Guardia Costiere, si sono spostati alla struttura della banchina 11 del porto e ci staranno per tre mesi. Il tempo previsto per concludere i lavori di miglioria alla casermetta sotto la lanterna del porto. Adesso sulla questione della Saipem, lavoratori Saipem sciopero in sciopero, non ci fermeremo, i sindacati chiedono garanzie per tutti i dipendenti del gruppo, ma sul resto del Carlino, e qui torniamo, cambiamo di nuovo il giornale, chimica in svendita, ma i lavoratori Saipem snobbano lo sciopero, solo una cinquantina davanti ai cancelli. Sulla pagina di Fano del Carlino invece questa mattina l'argomento principale è il Cecchi, l'istituto agrario Cecchi, nessuna sede del Cecchi a Fano. La funzionaria, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Marcella Tinazzi, che in questa fotografia, mentre qui c'è Tagliolini, eccolo qua, ecco, la funzionaria dice, fa chiarezza, mentre Tagliolini ribadisce, la demagogia ha le gambe corte. E praticamente c'è una legge dello Stato che impedisce l'apertura di una sede distaccata, distaccata di una scuola, al di fuori del comune in cui questa scuola, questo istituto scolastico ha la sede. Quindi siccome c'è chi ha la sede a Pesaro, non può aprire una sede stando a questa norma a Fano, ok? A meno che non sia previsto dal piano della rete scolastica. Fine della partita. 7 milioni invece per Sassonia, ma scoppia la bagarre, i residenti della zona sud, volete accontentare i bagnini, dicono, ma l'emergenza in realtà ce l'abbiamo noi. Il problema è tutto lì. Dalle scogliere ai canali per lo scuolo della pioggia, lavori al via comunque dopo l'estate. Guardate invece Marotta. A Marotta questa mattina c'è una pagina promozionale per la città di Marotta, pubblicità progresso. Luci saldate col filo di ferro, ecco la mappa del degrado. Un imprenditore denuncia. Zero manutenzione. Le criticità maggiori sono nella zona del mare. Basterebbero pochi spiccioli che si potrebbero trovare risparmiando sugli sprechi. E questo imprenditore evidentemente ha fatto anche delle fotografie per avvalorare la sua tesi e dire che ci sono delle situazioni veramente brutte, brutte cartoline. E sono queste, le vedete, lampioni per esempio, lampioncino arrugginito tenuto su, ve lo mostro qui, eccolo qua. L'allarghiamo anche, vedete? Un lampioncino arrugginito tenuto su con il filo di ferro e tre particolari invece più in là del sottopasso pedonale all'altezza del residence. Le vele. sull'ospedale di Fossombrone 30 posti letto utilizzati invece solo 19. Una denuncia è quella di Ruggeri del Comitato. Questo accade nel silenzio degli amministratori locali e dell'intera valle del Metauro. Anzi, le signore del nuovo cinema, i volti della cultura, nominate tre donne nel consiglio di amministrazione della mostra. Chi sono queste donne? Sono l'avvocato, e cominciamo da qua, l'avvocatessa Monica Nicolini, la giornalista Emanuela Rossi e Viviana Cattelan Casoli, che è la moglie di Francesco, la consorte di Francesco Casoli, che è il presidente del gruppo Elica. E poi c'è l'imprenditore Alberto Dolci. Il sindaco Ricci si ferma a quattro consiglieri, più se stesso, e cambia tutti, confermato lo staff scientifico. Adesso torniamo sul Corriere Adriatico. Apriamo la pagina di Pesaro, perché c'è la notizia di una nave mercantile che ha speronato un peschereccio. Per fortuna tutti e quattro i membri dell'equipaggio sono salvi. La collisione è avvenuta a 70 km dal porto di Pesaro, aperta sull'episodio un'inchiesta della Capitineria. Anche qua si parla di scogliere. Side Bagnini alla sperimentazione, incontro con Belloni e Faina. Il progetto innovativo di sfoltimento partirà dalla rotonda Bruscoli. Alcuni operatori hanno espresso perplessità, ma per proseguire si attenderà l'esito del primo intervento. L'altra pagina è quella di Pesaro e Urbino. Anche qui si parla di ospedale. Diffida, siamo a Fossombrone, diffida all'Asur regionale. Il vice sindaco dice vertici dell'azienda e i medici presenti violano le direttive. Ieri sera rassicurazioni per Chiarabilli, che è il vice sindaco di Fossombrone, provvedimenti disciplinari per chi ha sbagliato. Poi a Fermignano invece, come potete vedere, furti nelle abitazioni, razzie di gioielli, tablet, cellulari e naturalmente i più ricercati sono i soldi. Organizzazione del 118, ambulanze solo sulla carta, la CGL rileva che sono conteggiati i mezzi di Marche Nord usati per i trasporti urgenti. Poi Marchegiani si finanzi il Santa Croce, senza fondi si chiuda l'azienda, ospedali riuniti Marche Nord. Allarme per i posti lavoro, nella sede fanese della Saipem, che occupa più di mille lavoratori, l'adesione è stata del 50%, in Italia del 90%. Sono, come potete immaginare, avendo tutti e tre i quotidiani a vostra disposizione, guardando la rassegna stampa, che ci sono due valutazioni diverse. Sede fanese con più di mille lavoratori, l'adesione è stata del 50%, mentre, come abbiamo visto sul resto del Carlino poco fa, solo una cinquantina davanti ai cancelli. Quindi 50 significa che, insomma, lontani dai quei 500, che è il 50%, come dice invece il Corriere Adriatico. Ci sono anche le immagini che vi abbiamo mandato e vi abbiamo trasmesso, così come le fotografie che pubblica lo stesso Corriere Adriatico. Non sembrano 500 persone, quindi è difficile. Però poi magari hanno aderito anche in altro modo e questo noi al momento non lo sappiamo. Poi, persa un'occasione da 10 milioni a Pergola, fuori dal progetto Aria Interna dell'opposizione dice scelta disastrosa di Baldelli, poi sotto a Serrungarina, pulizia dell'invaso di Tavernelle, ok al piano dell'Enel. E poi sotto altre notizie che potrete trovare comprando il giornale in edicola. Poi andiamo invece sulla pagina di Senigallia, perché ieri c'è stata questa bombacarta, questo petardo, con un bel potenziale comunque, perché, insomma, un uomo, un uomo incappucciato che ha fatto esplodere questo grosso petardo durante il Consiglio Comunale di Senigallia e che, insomma, ha creato un bel trambusto. Tra l'altro, vedete, ha rotto anche un vetro l'esplosione. Qui vedete il sindaco Mangialardi che con la polizia discute, verifica, fa un po' un sopralluogo. Ecco, poi naturalmente tutto il mondo ieri si è mobilitato per esprimere solidarietà al sindaco di Senigallia per questo episodio. Adesso si sta dando la caccia, però, perché la polizia ha sotto mano un filmato e sta controllando, sta verificando, sono già sulle tracce di un uomo, di una persona che ha agito, ripeto, con il cappuccio in testa e ha buttato questo grosso petardo sul pianerottolo, insomma, del Consiglio Comunale. Andiamo per chiudere la rassegna stampa sul messaggero di Pesero. Velocemente, ospedale Cerisciole Mediatore, il governatore si ritaglia un ruolo salomonico nella querelle peserofano che dice che devono avere pari dignità e seri restituisce il cerino a Ricci, il privato a Muraglia e nuova struttura a Chiaruccia. Poi, qua sulla pagina principale, vedete, con un titolo anche carino, è palla prigioniera, sono iniziati i lavori alla palla di pomodoro, al via il cantiere, già tagliati gli alberi intorno al piazzale, eventi, ma anche un'offerta più qualificata. Poi sorprende i ladri in casa e una coppia finisce in manette, nella notte caccia il terzo uomo tra le colline di Pesero e Fano. Hanno rubato oro, soldi per migliaia di euro, ma vengono sorpresi dalla proprietaria e arrestati dalla polizia. È successo ieri pomeriggio intorno alle 18.30 in strada San Biagio a Ronco San Baccio, al confine tra Pesero e Fano. Ok, la pagina di Fano l'abbiamo vista, altro non c'è se non per esempio sulla pagina di Pesero l'emergenza freddo, sinergie a tre in aiuto di chi non ha un tetto, si mobilitano il comune, la Caritas e la Polizia Municipale, centri di accoglienza, ma anche un corso per volontari. È tutto, grazie per aver seguito la rassegna stampa, ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.